Oggi non è facile organizzare eventi, continuano a uscire nuovi decreti che ti cambiano le regole del gioco, quindi bisogna veramente crederci, ma noi dal primo giorno abbiamo fortemente creduto nella cultura e sono molto soddisfatto di essere qui oggi per inaugurare questa bellissima mostra che sono certo sarà un successo. A questo punto passo proprio la parola.